Cosa fanno 11 tazzini di caffè miscela d'oro quando gioca in casa in Messina? A. Fanno un baccano del diavolo con i cucchiaini per incitare i giocatori! B. Si versano un altro po' di miscela d'oro per tenersi belle sveglie fino al novantesimo minuto! C. Aspettano 11 tifosi che vanno al bar a festeggiare! La risposta buona è la C. Buona come una buona tazza di miscela d'oro! M. Tu lo sai come buono un buon caffè!